Nasce per volontà degli stessi studenti che volevano capire che cosa fosse la mafia, avevano un'idea che la mafia fosse soltanto al sud della nostra nazione, invece abbiamo dimostrato come purtroppo ha radici dappertutto anche qui in Toscana. Il progetto si chiama Noi ragazzi siamo estrani alla mafia e nasce dalla collaborazione tra Estra, Liceo Vittoria Colonna e l'Associazione L'Arte di Apoxio Meno. Per contribuire a quella formazione, quella informazione costante e continua che dobbiamo rivolgere ai nostri ragazzi che spesso guardano al fenomeno mafioso come qualcosa di estremamente distante o cinematografico. La Toscana è un territorio fragile da molti punti di vista, è vero che la società non è permeata da fenomeni mafiosi diretti, però è una società a rischio da questo punto di vista proprio per la ricchezza diffusa che ha nel territorio. Gli studenti sono stati così coinvolti in quattro masterclass dedicate alla lotta alla mafia. Abbiamo come primo incontro avuto la Maria Rosaria Costa, la vedova di Vito Schifani, poi abbiamo avuto il prefetto Mori e il colonnello De Donno che hanno raccontato praticamente le indagini contro l'organizzazione criminale mafiosa soprattutto in Sicilia, poi abbiamo avuto la Monica Dobrovosca che ha raccontato quelle che sono state le indagini di Roberto Mancini, il marito morto a causa della terra dei fuochi, e per ultimo incontro i vigili del fuoco e l'associazione delle vittime di Via dei Giorgofili, dunque siamo arrivati a dimostrare che la mafia ha colpito anche qui e anche in maniera cruenta. Il progetto vedrà la sua conclusione nel convegno del 7 maggio al Teatro Petrarca al quale sarà presente anche la presidente della commissione antimafia, l'onorevole Chiara Colosimo. Per loro è stato un aprire lo sguardo su un problema che tuttora purtroppo è presente nel nostro paese, quello della mafia appunto. E quindi una volta tanto la cosiddetta educazione civica, educazione a legalità, ha trovato un riscontro concreto in testimonianze, in lavori specifici che i ragazzi porteranno anche all'ultima giornata al Teatro Petrarca in cui ci sarà appunto la presidente della commissione antimafia.